Ho iniziato ad esplorare l'universo Gaber nel 2007 e da allora mi muovo in quel territorio con grande felicità. L'ho fatto prima con Neri Marco Re, poi con Claudio Bisio, poi con Eugenio Allegri, recentemente l'ho fatto con Elio e adesso mi appresto a farlo con Fabio Troiano in questa bella avventura del Dio Bambino. Il Dio Bambino è un testo del 93 che ha però ancora una grandissima forza, una grandissima contemporaneità, una grandissima modernità. È un monologo tipico del periodo autorale di Gavere Luporini, è una storia dove il protagonista è il classico intellettuale, molto signor G, diciamo così, questa maschera della commedia dell'arte contemporanea che Gavere ha interpretato e inventato. Uno scrittore, un artista compiaciuto della propria diversità e del proprio essere intellettuale che però si porta dietro zoppie, mancanze, fragilità, frustrazioni perché non è quello che vorrebbe essere. In realtà il Dio Bambino è una storia d'amore, è il racconto di un amore difficile, complicato, bivalente tra un uomo e una donna che arriva a maturità grazie all'arrivo di un bambino. è proprio questo il gioco, noi intellettuali compiaciuti con l'eterna sindrome di Peter Pan forse raggiungiamo, raggiungeremo, tentiamo di raggiungere la maturità quando ci rapportiamo con qualcosa di infantile. In questo caso la nascita di un bambino che ci fa diventare altri, che ci mette di fronte a un grande mistero e una grande magia. E attraverso questo percorso che in fondo è un rito di iniziazione, quello che è il Dio Bambino, anche non di un adolescente che diventa adulto, ma di un adulto che non è ancora diventato adulto, che non ha voluto diventare adulto. Costruiamo un'opera che noi abbiamo poi contrapuntato con delle canzoni di Gaber, che Gaber ha scritto secondo me pensando al Dio Bambino e perciò c'è un dialogo continuo tra il testo del 93 e l'opera musicale di Gaber e Luporini che si intreccia continuamente con questa costruzione. È un testo importante, non tanto conosciuto, forse misconosciuto anche perché Gaber l'ha fatto solo a Milano e solo in una stagione e poi l'ha abbandonato in attesa di rimetterci le mani sopra, cosa che non è mai avvenuta, ma non è per niente inferiore al grigio, altro testo simmetrico un pochettino a questo, che racconta in altra forma i mostri che abbiamo dentro, cioè tutto ciò che di incompiuto c'è nell'essere umano e perciò credo che riportarli in scena sia ridare visibilità a un'opera di grande importanza.